Crotti e Magni, autori del libro Anima Gemella Cercasi, come trovare il partner ideale attraverso l'analisi della scrittura, sostengono che la scrittura è un medium personale, unica e riconoscibile ed è un preciso indicatore degli stati d'animo e della psicologia di chi scrive. È un modo di esprimere la propria personalità e dunque, se si hanno gli strumenti per comprenderla, può rivelare molti aspetti del carattere. Anche nella scelta del partner può essere importante l'analisi della scrittura, per conoscerne le caratteristiche di fondo e comprendere se la coppia potrà funzionare. Questo libro analizza la scrittura dell'uomo e della donna e propone test grafologici che consentono di far emergere gli aspetti salienti del carattere di entrambi i partner, così da poter stabilire se la coppia è ben assortita oppure se le due personalità sono destinate a scontrarsi. Ecco, Ilaria ci ha letto un passaggio, uno dei tanti libri che affrontano il tema dell'innamoramento a partire da una premessa magari non detta ma sempre molto presente, che l'amore sia l'incontro di due persone, come si dice, fatte una per l'altra, le due metà di una mela, una perfetta coincidenza di destini. Fatta salva l'idea che attraverso la scrittura si possa capire molto della personalità di una persona, rimane però molto da dubitare su questo concetto proprio di anima gemella, che pure è così diffuso, che pure sentiamo da tante parti ripetere anche in forme abbastanza sdolcinate. Ha una storia antica e se vogliamo anche una storia nobile, perché comincia da un testo molto antico di Platone che è il simposio. Simposio vuol dire un banchetto dove in realtà più che mangiare si beve, sia pure con moderazione e ciascuno dei commensali, intanto che beve appunto moderatamente, discute su un tema e in quest'opera di Platone si discute di che cosa sia l'amore. E tra le varie voci che intervengono noi citeremo quella di Aristofane, il quale narra un mito, un antico mito secondo cui gli uomini all'inizio erano androgini, cioè sia maschio che femmina, e quindi avevano assoluta autonomia, non avevano bisogno di nulla, perché già al loro interno le due metà si compenetravano in maniera perfetta. Questo dava loro anche molta potenza, tanta potenza che alla fine genera l'invidia degli dèi. Gli dèi temono questa potenza degli uomini sfera, così chiamati, androgeni, uomo e donna insieme, tanto che li dividono in due. Zeus li divide in due e da allora, dice il mito, ogni parte cerca la sua parte gemella appunto, perché vuol ricomporre l'unità, vuol ricomporre questa unità primigenia. Questo era uno dei modi con cui gli antichi spiegavano l'attrazione biologica tra uomo e donna, come un bisogno di ritornare a una unità che si era spezzata. Il tema è anche molto importante, cioè la ricerca di una unità originaria, ma con il tempo questa idea si è andata molto banalizzando, fino alla convenzione, cioè che esista una sorta di totale similitudine fra due elementi, due metà, che devono combaciare esattamente fra di loro come se fossero due metà di una mela. Adesso vi mostriamo alcune interviste realizzate su una domanda appunto a cui abbiamo voluto far rispondere ai Vox Populi, cioè che cosa rende possibili l'amore e l'amicizia. E' moltissima fondamentale nelle relazioni e forse uno dei motivi per i quali vale la pena di vivere. E che cosa li rende possibile? Che cosa li rende possibili? La disponibilità, la comprensione, la tolleranza, l'accettazione, la pazienza. Cosa che i ragazzi vi adesso provano? Il passare sopra anche a quelli che potrebbero sembrare piccoli toffi o piccoli... La serenità, la sicurezza in se stessi, Abbiamo sentito tante risposte a questa osservazione e di nuovo torniamo a chiederci E da dove nasce questo mito, che poi di mito si tratta, dell'anima gemella? Beh, diciamo che in qualche misura è legato alla percezione dell'innamoramento. Nell'innamoramento tutto appare facile perché in un certo senso noi non ci innamoriamo dell'altro, dell'altra, ma ci innamoriamo dell'immagine che noi abbiamo dell'altro e dell'altra. E proprio perché l'immagine l'abbiamo prodotta noi, è chiaro che diventa facile identificarsi in questa altra persona attribuendole non quello che la persona è, ma il nostro desiderio che la persona sia. Quando poi andiamo avanti e la persona si dimostra per quello che è, cioè una realtà altra rispetto a noi, allora avviene il bivio. O abbiamo la capacità di saper convivere attraverso il rispetto, le differenze, oppure azzeriamo tutto nell'illusione di poter ripartire da capo. È una realtà che non vale solo per l'amore, vale anche per l'amicizia, vale anche per tutte le altre esperienze di contatto con mondi che sono diversi dai nostri. Per cui, diciamo, più che amore per l'altro, l'innamoramento in questa fase è amore per l'amore, una sensazione che ci riempie di significato, ma che non è ancora arrivata all'elemento più adulto, più maturo, più consapevole, di riconoscere nell'altro una autonomia, una libertà che non può essere delimitata dalla nostra osservazione. E vediamo ancora alcune risposte. La domanda che mi poni è una domanda semplice, di sicuro, però c'è da dire che, a mio avviso, personalissimo, l'amore e l'amicizia sono all'incirca la stessa cosa. Io credo che un'amicizia di quelle radicali, di quelle profonde, non si differenzi tanto effettivamente dall'amore. Io posso provare amore anche per un mio amico stretto, un amore magari che poi non sfocia nella carnalità, nella passionalità, però rimane comunque un amore sentimentale. E sinceramente credo che quello che ci sia, la base dell'amore, sia una predisposizione interna, nel senso che non è un tocco di vino, non è qualcosa che ti possessa, ma è una condizione che è nell'animo della persona, nel momento giusto. Il rispetto, la conoscenza l'uno dell'altro e soprattutto la residenza, perché se due persone non vivono nello stesso posto, non si vivono vicenda, non conoscere nulla. Allora, se l'amore viene frainteso in questo modo, attraverso questo mito pseudo-romantico, ne nascono necessariamente delle delusioni, che portano magari nell'intentativo di correggere un errore a un altro errore, non necessariamente alla verità. E da questo punto di vista sono altrettanto significative, perché parziali, almeno nel nostro giudizio, le parole di uno scrittore spagnolo, Javier Marias, che ha appunto smontato questo mito di un amore predestinato. Marias appunto stigmatizza con queste parole che cosa si intende per innamoramento, ci dice infatti, innamorandosi, tanti si sentono come destinati l'uno all'altro, quasi che tutto fosse avvenuto per magia. Ma non è che una bella favola, in realtà moltissimo dipende da fattori prosaici, tipo dove abitiamo, che posti frequentiamo, chi è libero, cioè non accoppiato in quel momento. L'innamoramento, continua Marias, è una lotteria di fine estate, dove i partecipanti sono pochi e gioco forza si accontentano degli scarsi premi rimasti. Siamo spesso sostituiti da persone che l'altro ha perduto o che non è riuscito a conquistare. Agli occhi dell'altro incarniamo la nostalgia di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Quindi questa, per Marias, è la condizione idealizzante dell'amore. E' quanto scrive proprio nel suo romanzo, gli innamoramenti, in cui c'è la storia di una coppia benestante di Madrid che apparentemente ha tutto, sono belli, felici, con un buon lavoro, hanno dei figli, e poi però la storia vira in dramma. Ecco, quello che vorremmo mettere in evidenza con i nostri amici che ci ascoltano è che probabilmente sono frutto di due errori, contrapposti ma entrambi gravi. Il primo, quello di una sdolcinata convinzione, secondo cui basta un po' di grafologia per individuare l'anima gemella. E l'altra, quella di un cinismo un po' banale di Marias, in cui si cerca di smontare ogni elemento importante e significativo nella relazione fra un uomo e una donna. E da questo punto di vista dobbiamo, concludendo, tornare al punto fondamentale. Come poi vediamo nelle immagini, ecco, l'illusione di creare un essere uguale al nostro, duplicandone sia la forma fisica, speculare, maschile o femminile, sia il cervello, cioè l'insieme delle convinzioni, è una illusione che denuncia l'incapacità di aprirsi a una visione più ampia, a una visione altra. E terminiamo con le osservazioni di un filosofo, questa volta vero, Kierkegaard, il quale scrive negli atti dell'amore questa frase. Ciò che lega due amanti è un terzo e questo è l'amore stesso. Colui che istituisce ogni legame e fa essere tutte le cose è l'unica garanzia per la vita dell'amore, che rimane sempre, anche oltre e al di là, delle nostre debolezze e mancanze e che rende possibili la solidarietà e la benevolenza. Se l'amore fosse unicamente il rapporto fra due, l'una delle parti sarebbe sempre alla mercè dell'altra, allorché quest'altra, per la sua abiezione, vorrebbe rompere il rapporto. Se il rapporto fosse soltanto fra due, l'uno potrebbe avere la supremazia, così da poterlo rompere, poiché se uno rompe il rapporto si è rotto. Quando però sono in gioco tre, uno solo non può farlo, il terzo, come si è detto, è l'amore stesso. Ripeto, è Soren Kierkegaard, gli atti dell'amore. E con questa frase vi lasciamo e vi ringraziamo per l'ascolto, dandovi appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. rampanti alla settimana prossima.